Ovvia, sta ripartendo il Vittoria Pilsen. Vabbè, 169% di possesso palla della Fiorentina, ma cross, non sappiamo crossare, Biraghi, non sa crossare, questo ormai è risaputo, insomma, di questa situazione. Non abbiamo creato, non abbiamo creato grattacapi al Vittoria, vediamo, sono sicuro che sono più di 10 minuti, perché c'è stato qualche fumogeno in campo da parte del Viola, che praticamente sembra di giocare a Firenze, quello sì, perché si sente solo ai tifosi della Viola. Pallone sbagliato, riparte il Vittoria. L'italiano ha cambiato il livello di Vittoria, un attacco. 86esimo, e vediamo un po' di... Il che si fa, il che si fa, vediamo il che si fa. C'è quell'ultimo movimento difensivo qualcosa accusato, detto che è accusato un unico cambio, quello che... brutti di voglia, mamma brutti. E insomma, sono brutti? Vabbè brutto, brutto! Brutto! Bene, questi belli, guarda i Viola. Viola lì, Viola lì, Viola lì, Ale, forza Viola lì, forza Viola lì, Forza Viola lì, Viola lì, Viola lì, Viola lì, Ale, forza Viola... Vai Inzola! Accidenta alla maiala di... Bip, 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 bip. Vale, oh, ha cambiato un macello. Vai, forza! Oddio, Pirachi, Pirachi! Barak! Mandragora! Milenkovic! Dodò! Chianta, canta! Vai! Bella, Barak! Bene, Dodò! Oh! Non è d'accordo, Armi, non è l'assistente gravi vicino. Oh, io... Facciamo un check in penalty? Prato check, su quella situazione? Di Ragnoli! Questo sta dicendo l'arbitro. Vabbè, l'ha fatto, eh. Con il... Maxime! Mandragora! Mandragora! Birachi! Birachi, mamma mia! Birachi, madonna! Chi lo vuole, Birachi? Glielo porto io! Chi lo vuole? Io! Dodò! Dodò! Maxillo Pezzi! Sì, dai, facciamo passaggini all'indietro. Dalla... Dalla Terracciano, ora! Terracciano! Martino è squarta! Cambio campo! Sbagliatissimo! Palla fuori! Porco! Bip! 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 Beh, l'idea era giusta, Ensen, che poi provava a Ligeria ad andare all'altra parte... L'idea! L'idea, c'è, Ensen. Sì. Mentre qui, Iconeri litiga con il raccattapalle che evidentemente non ha dato via subito quel pallone. E si prende già. Vedete, mi chiamo il pallone che fa palla, c'è un po' l'ognorri, il piccone e poi lo spingeria così e ti tira anche la palla. Questo è un giallo che è evidente. Corruto e figlio della tensione della partita che ha avuto il ritmo imposto dalla vittoria a Tuelzena che non ha sbagliato difensivamente nulla. 89esimo. E ha proprio una disposizione sul campo costrante. Ragazzi mia, queste qui si vincano 4-0 le partite! 4-0 si devono vincere! Dodò, si riparte! Terracciano! 6 minuti di recupero! Cominciati a Tuelzena Arena! Madonna mia ragazzi! Madonna mia! Già partiti 30 secondi, così! attenzione! Vittoria! Vittoria in avanti! Forza! Terracciano viaggia! Cazzarola! Cazzarola! Fai un questi piedi! Questi piedi! Te li bagno! Quanti piedi c'è qua? Le gemelle! Le gemelle! Le volete le gemelle? Le vendo! Le volete le gemelle che ve le vendo? Come no? Ma guarda che vi vogliano eh! Chi le vuole le gemelle? 1 minuto e 25 secondi! Fiorentina in avanti! Dodò! Sì amore, ma secondo te... Attenzione! Zola! Si gira! E la perde! Quel pezzo di legno! Mamma mia! Amore ti puzza piedi! Marcia! Marcia! Ti hai i tuoi piedi? La tua spese è tanto in barca! Tutta la calma di questo... Stoppato il video! Vaffanculo! Vaffa! Si riparte! Si riparte! 2 minuti e 17 secondi! Vittoria in avanti! Ora sta a vedere eh! Ma stai zitto! Guaiolo! O guaiolo! Ormai sono andati già via 3 minuti! Allora abbiamo 3 minuti! Ha fatto dei cambi del cazzo! Ha fatto dei cambi di merda! Stasera ha fatto i cambi di merda! Non c'è niente da fare! Ha fatto dei cambi del cazzo! Ora dai! Ora si perderà un quarto d'ora in terra! Siamo a 3 minuti e 15 secondi! Ma vaffanculo vai! Cambio! Cambio! Ha sempre preso un giallo con lì! E anche l'uomo è putato a uscire! Dentro Climenter! Nelensia è vinto a Gratogia! Guarda qui questo è il 2022! Al Vittorio Perse! Due gol! Un campionato per i Climenter! 93! Dio madonna, quattro minuti, manca solo due minuti, solo due minuti, cazzo. Novantaquattro e trenta secondi. Novantaquattro e trenta secondi. Novantaquattro e trenta secondi. c'è da dire chi è brutto 2005 in pausca che è una storia centrale che rispettare anche i ragazzini che un pochino vittorio a questo ne diceva il 95 esimo e 45 secondi in pallonate se mi usa il mezzo cosa di più si è fatto una sega sono sicuramente dai cambi non è successo più niente quindi immagino sembra fino al 97 però insomma la palla c'è la vittoria prezza vicino a bandierina raddoppiato a fiorentino vittoria frizzi ciao cani stai calmo stai calmo vai leva ti agitati in questa casa ciao